Un saluto agli amici del Corriere dello Sport.it e bentornati sul nostro sito. Oggi ci sono venuti a trovare due ospiti eccezionali, uno per la prima volta e un altro ci è venuto a trovare, graditissimo ritorno. Michele Placido, benvenuto Michele al Corriere dello Sport e Vinicio Marchioni. Ciao, ben trovato. Grazie. Grande ritorno. Allora, siete qui per presentare L'Ombra di Caravaggio, che è un film che uscirà il 3 novembre nelle sale italiane, che è stato presentato alla Festa del Cinema di Roma. È un film molto bello, che racconta, tra l'altro, molto bello, lo dico io, lo dice la stampa, poi speriamo che lo dica anche il pubblico, ovviamente che è giudice supremo, non ci mancherebbe altro, che racconta il personaggio Caravaggio. Perché a me è una cosa che ad esempio mi ha sorpreso, Michele, poi ovviamente raccontami meglio tu che sei il regista e anche attore del film, è il fatto che Caravaggio, che dipinge, si vede pochissimo, forse soltanto in una scena. Tu ti sei focalizzato più su altri aspetti di Caravaggio, giusto? Sì, beh, è stata una delle riflessioni maggiori che durante la scrittura ci siamo posti con i due sceneggiatori, con Sandro Petraglia e Signorile, Fidele Signorile, era quella di non raccontare una stretta biografia e neanche documentare, come dire, l'aspetto estetico della pittura caravaggesca, perché sono stati fatti già nel passato eccezionali, devo dire, veramente dei buoni dopo film. E cosa ci interessava? Ci interessava, poi avendo già dei precedenti con Sandro Petraglia, vedi un romanzo criminale per esempio, ci interessava questo aspetto di raccontare Roma che in qualche modo si ritrovasse anche un po' nella Roma contemporanea. Allora ci siamo, e soprattutto uno stile cinematografico che fosse anche una sorta di crime, di un giallo, di come è stato il percorso di Caravaggio non solo come vittore, ma soprattutto dal punto di vista umano, esistenziale, come chi fosse, dove viveva, che gente frequentava, la sua condanna a morte e tanti altri aspetti. Ci siamo cinematograficamente ispirati a un personaggio che non è esistito, che era l'ombra, che è l'ombra del film, che è una sorta di spia, di poliziotto dell'epoca, ma anche uno che inquisiva per conto del Vaticano l'arte della pittura per capire i limiti se dei pittori andassero fuori le regole del Vaticano, perché in effetti la pittura era come il cinema oggi. Quando usciva un quadro, una chiesa, ogni chiesa aveva il suo cardinale protettore, le grandi chiese romane, dove quando si presentava un quadro il popolo accorreva in massa per assistere a un grande evento. Era come il cinema, perché poi questo quadro influiva molto. Il Vaticano osservava bene le reazioni del popolo, del popolino, come era chiamato all'epoca, che non doveva però essere troppo indirizzato, troppo appaestrato. Ecco, questo personaggio dell'ombra è in qualche modo il protagonista del racconto, perché ci illustra chi era Caravaggio, chi erano in quei quadri, chi erano gli attori, cioè gli attori erano, le attrici erano delle prostitute, che poi sarebbero salite all'onore degli altari, erano dei malfattori che sarebbero diventate dei santi, e questo la chiesa a un certo momento se ne accorge, e naturalmente cominciò i guai per Caravaggio. Allora, Vinicio, tu interpreti un altro pittore dell'epoca, insomma, molto importante, che era un personaggio che a un certo punto andò anche a scontrarsi con il Caravaggio, lo denunciò anche, però lo ammirava anche molto, giusto? Ma sì, Giovanni Baglione è stato il primo a rendersi conto, il primo non lo so, insomma, però è stato sicuramente il primo a scriverne della grandezza di Caravaggio, è stato il primo a scrivere una biografia su Michelangelo Merisi, però è stato anche il primo che si è reso conto che erano di fronte a qualcuno che avrebbe creato dei problemi, come dire, perché in quell'epoca, come dire, l'Accademia dei Pittori era come se fosse una piccola oligarchia di privilegiati che lavoravano ognuno con il proprio cardinale, con il papa, eccetera, è arrivato questo forestiero che non solo metteva sui quadri qualcosa che nessuno di loro aveva mai visto, ma anche nei modi, nelle modalità, nelle frequentazioni, era completamente insurrezionalista, insomma, per quell'epoca, e quindi andava a rompere tutte quelle che erano le convenzioni di quel mondo lì. Allora, ovviamente Caravaggio è interpretato, peraltro, da Riccardo Scamarcio, ricordiamolo, ovviamente, era un po' la rock star dell'epoca, se vogliamo, no? All'epoca c'erano delle rock star importanti, perché avevo letto, preparando l'intervista, giustamente, che lui aveva vissuto nello stesso periodo anche di Shakespeare, quindi c'erano questi due grandissimi personaggi dell'epoca, che erano appunto le rock star di allora, no? Che sono un po' diversi, noi oggi abbiamo i Maneskin, abbiamo Chiara Ferragni, diciamo che all'epoca erano messi un po' meglio, se vogliamo, insomma. Allora, che tipo sarebbe stato Caravaggio se fosse vissuto ai nostri tempi oggi, secondo voi? Beh, certamente la pittura oggi non ha più quel glamour che aveva l'epoca, no? Che anche nei secoli successivi, oggi le rock star appunto sono dei cantanti, ma sono anche influencer, anzi, ma non lo so, non riesco a vederlo, Caravaggio, con una chitarra in mano, con una... Io, la contemporaneità di Caravaggio, però sono convinto che lui avrebbe usato molto il cinema, una macchina, o fotoreporter di guerra, cioè uno di quelle persone che poi attraverso un modus, diciamo, va e esercita questa roba con la passione di dare la sua visione, donarla al pubblico che aspetta sempre appunto da una forma d'arte, un qualcosa di straordinario, una... come dire, un modo di essere informato, non solo da un punto di vista della cronaca, come può essere un fotoreporter, non so, ecco, in questo momento in Ucraina, no? Che diventa poi uno dei punti di riferimento del pubblico, quando questo fotoreporter attraverso le foto, attraverso la cronaca, racconta la guerra in diretta, che è una forma, una forma se non d'arte, ma sicuramente una forma in cui una persona, un personaggio esprime la sua passione per quello che è la politica, per quello che è la sua visione delle cose del mondo, e noi lo subiamo e ci appassioniamo, e così ancora, ecco, forse il cinema avrebbe fatto... Perché lui è, in effetti, secondo me, no? Non so se si è d'accordo, è stato forse uno dei... Il primo regista in assoluto, lui mette in scena i suoi quadri, non ne fa solo un fattore di estetica, ma di verismo, lui si esprime guardando la realtà. Verismo, hai detto appunto la parola giusta, perché è una, secondo me, delle caratteristiche principali di questo film, no? Il fatto che, appunto, Caravaggio fosse quasi ossessionato dalla ricerca del vero, no? Della verità. Si vede in una scena, ad esempio, quando lui riprende la morte di una donna, no? Non ci sono gli angeli nel quadro, no? Perché lui voleva trasmettere proprio questo senso di verità, così com'è la realtà, giusto? Senza andare... Come si muore. Per incontrarsi con quello che, appunto, era, invece, erano le direttive dell'epoca. Questo è un tema che tu hai affrontato molto in questo film, giusto? Sì, sì. Beh, è uno dei motivi per cui, probabilmente, Caravaggio è un pittore, è un... Intanto è un rivoluzionario per quell'epoca, per il modo con cui mette in scena i suoi quadri, ma è molto contemporaneo. Molto contemporaneo perché il nostro lavoro di essere artisti, o voi, come giornalisti, di dire la verità, di esprimere la verità. Su questo non ci sono dubbi. Caravaggio, da questo punto di vista, non è soltanto un esteta, ma cerca di prendere, come grandi fotografi, no? Che hanno insegnato, lo so, Letizia Battaglia, per esempio, una grande fotografa siciliana che ha accolto momenti straordinari, strepitosi di quello che era la mafia, ha raccontato la mafia come poi. Questo avrebbe fatto anche... Caravaggio sarebbe stato in linea oggi con una grande fotografa come Letizia Battaglia, per esempio. Sei d'accordo pure te, vi dico, con questo fatto che, insomma, ci ha dato anche una bella lezione Caravaggio, no? Che bisogna sempre andare a cercare la verità. Manca un po' la verità ai giorni nostri, purtroppo. Infatti stavo pensando che forse avrebbe distrutto Instagram Caravaggio oggi. Sì, nel senso che sui social mettiamo, come dire, solo la parte migliore di noi. Mettiamo solamente, no? Quando siamo truccati, pettinati, vestiti, le cose più belle che facciamo. Nessuno mette la verità su Instagram, nessuno mette quando si sveglia la mattina, che è brutto, ha spettinato, no? E invece Caravaggio forse l'avrebbe utilizzato muovendosi nella contemporaneità o forse se ne sarebbe fregato alla grande e si sarebbe espresso attraverso altri canali. Però sicuramente avrebbe fatto qualcosa di grande rottura. Sicuramente. E poi, insomma, era una persona che amava la libertà, giusto? Era disposta a tutto pur di tenere la propria libertà e di non perderla. Un'altra cosa che mi ha anche molto piaciuto, a parte ci sono delle riprese che sembrano veramente dei quadri, ovviamente sarà stata fatta a posto, ma c'è una fotografia meravigliosa in questo film, veramente, complimenti. È la notte, no? Che è un po' l'atmosfera che si percepisce lungo tutto il percorso di questo film, no? Perché nella notte Caravaggio andava a trovare le persone che poi rappresentavano i suoi quadri, giusto? Sì, sì, è vero. Ma lui era... In verità viene scoperto da questo cardinale molto ambiguo che io interpreto, che si chiamava il Cardinale del Monte, che capisce subito l'Igenio di Caravaggio. L'ospita Palazzo Madama, dove è sede adesso del Senato, vicino Piazza Navona, perché poi, devo dire anche, la cosa bella di questo film, me ne vanto nel senso che abbiamo voluto ricostruire la Roma dell'epoca anche a Cinecittà, ma dove Castel Sant'Angelo lo vediamo ancora oggi come era allora, le prigioni all'interno di Castel Sant'Angelo, dove viene imprigionato appunto Caravaggio, dove si fanno gli interregolatori dell'inquisizione, tuttora sono nei bassi fondi di Castel Sant'Angelo. Una meraviglia, no? Il Cine non è mai entrato in quei luoghi. e Roma era Roma, Roma per Caravaggio era il suo palcoscenico, questo diceva di Roma, io sono venuto a Roma perché sapevo di trovare la grandezza del Rinascimento, ma sapevo anche che lì si sarebbe svolta la mia vita, il mio destino. Lo scrive parecchie volte. Lui non riusciva a trovare una strada, non riusciva a capire come si poteva superare già esempi straordinari del barocco o come la Cappella Sistina. Entra lì nella Cappella Sistina, vede uno che si chiama Michelangelo, lui si chiamava Michelangelo, e non ce ne possono essere due di Michelangelo, ma è vero, si mettono nome d'arte, Caravaggio. E soprattutto capisce che non può superare la straordinaria trittura di Michelangelo, ma Roma non è fatto solo di bellezza, di estetica, di raffaellismo, di colori meravigliosi, ma c'è anche il buio, ci sono gli ultimi, gli umiliati, gli offesi, i sofferenti, la roba che c'è anche adesso. E lui va, vuole, invece di abitare al palazzo Madama, ospite di questo cardinale, che gli offre uno studio, la possibilità di entrare fra gli eletti della pittura romana, va a vivere quella Roma sconosciuta dell'epoca e trova la sua strada, fra gli umiliati, fra gli offesi di un santo, che è santo, di Filippo Neri. Filippo Neri che aveva una comunità come la Caritas di oggi, che di notte andavano a trovare i barboni, andavano a trovare le donne che avevano subito violenza per le strade, di notte, all'adviaccio, e ne fa dei santi, e ne fa delle madonne. Benissimo. Allora, io vi ringrazio di essere stati i nostri ospiti, veramente è stato un grande onore. Grazie a te. Ricordiamo quindi l'appuntamento nei cinema L'Ombra di Caravaggio dal 3 novembre e, tra l'altro, ricordiamolo, è venduto in 30 paesi, giusto, questo film? Perché è una collaborazione anche idalo-francese, una produzione idalo-francese, giusto? Sì, sì, e avrò l'onore di uscire, grazie alla coproduzione con la Francia, il 28 dicembre in Francia ci sarà la prima Aix-en-Selice a Parigi. Bellissimo, in poppa magna quindi. Grandissimo, grazie ancora davvero e alla prossima un saluto a tutti i nostri amici. A presto. Ciao. Ciao. Grazie a tutti. Grazie.